Marco Odermatt è letteralmente infermabile, conquista la sua annesima vittoria in questa stagione in Coppa del Mondo, lui che è leader veramente per distacco nella classifica generale, il giovane svizzero conquista quest'oggi anche la Gran Risa, la storica pista in alta Valbadia. Ma arrivano ottime notizie anche per l'Italia, perché arriva, pensate, il primo podio in carriera per il 31enne Luca Di Aliprandini. Sembra veramente assurdo, perché soprattutto negli ultimi due anni sta trovando una continuità di risultati veramente incredibile. È diventato praticamente una B2E delle posizioni dalla quarta all'ottava e soprattutto è arrivato l'anno scorso un podio mondiale con l'argento a cortina nel Gigante, per cui veramente stranissimo pensare che non avesse ancora ottenuto podi in Coppa del Mondo mentre aveva già in Palmares un argento mondiale. E quest'oggi ce la fa. Dopo il quarto posto di ieri, quest'oggi recupera due posizioni, diciamo, e chiude in seconda piazza, dovendosi arrendere solamente a un gigante, letteralmente, Marco Odermatt. Buon pomeriggio a tutti, amici appunti di sport, ben ritrovati su Moellerino Sporciane e sono Alessandro su cui per parlarvi appunto del gigante maschile in Alta Valbadia per quanto riguarda la Coppa del Mondo di sci alpino. Una gara storica su una pista veramente leggendaria come la Gran Risa, una pista molto ripida, molto difficile, una traccettura molto bella e difficile da interpretare, soprattutto quella nella prima manche, perché rispetto alla gara di ieri i distacchi sono stati veramente abissali. A fare la differenza sono stati in due, Marco Odermatt e Luca Deliprandini, separati solamente da 18 centesimi, mentre al terzo il tedesco Alexander Schmidt era veramente staccatissimo dai due perché pagava 86 centesimi dallo svizzero. Quinta posizione per il vincitore di ieri, Christofferson, che ha fatto una seconda manche incredibile ieri. Quinta posizione quest'oggi, quindi meglio rispetto appunto al giorno precedente per quanto riguarda la prima manche, però a 99 centesimi da Odermatt. Per quanto riguarda gli altri italiani, bene, 4 qualificati, 23esimo Borsotti, 29esimo e 30esimo, quindi ultimi due a riuscire a staccare il pass per la seconda manche, Simon Marberger e Della Vite, il giovane classe 2001. Per quanto riguarda invece la seconda manche, il miglior tempo di manche viene fatto registrare dal canadese Trevor Philp con soli 8 centesimi sul connazionale Eric Reid, per cui veramente una grandissima seconda manche per i canadesi che chiudono rispettivamente 14esimo e 15esimo con 11 posizioni recuperate da Reid e 12 posizioni recuperate da Trevor Philp. Per quanto riguarda invece gli italiani, quarto tempo di manche per Della Vite, veramente una manche sontuosa per il giovane italiano classe 2001, per cui veramente giovanissimo, che è stato il primo a scendere e ha recuperato bene 10 posizioni chiudendo in top 20, in ventesima posizione. Ventiduesimo invece Borsotti e venticinquesimo Simon Marberger, che comunque anche lui recupera 4 posizioni più che altro per errori altrui, più che per una prestazione che comunque è stata buona nella seconda manche per il 26enne. Per quanto riguarda invece i big, il migliore è stato Feller, che non era proprio tra i big perché partiva 15esimo e ha recuperato ben 10 posizioni riportandosi in quinta piazza, veramente una grandissima prova per l'austriaco, ma anche ieri aveva recuperato tantissimo nella seconda manche, mentre il peggiore è stato, se vogliamo, Brensteiner. Brensteiner, che invece ieri era andato fortissimo nella seconda manche, quest'oggi perde 3 posizioni e scende dalla quarta alla settima posizione. Non cambia il podio perché davanti resta Marco Odermatt, che però fa veramente la differenza perché è stato ancora una volta il migliore dei big. È incredibile Odermatt perché riesce sempre, nonostante una prima manche ottima, ad essere sempre il migliore dei big nella seconda manche, che è una cosa impressionante perché parte quasi sempre per ultimo, penultimo e riesce appunto a fare la differenza. Staccato di un secondo e 0-1 Deali Prandini, Deali Prandini che non ha fatto una grandissima manche, 26esimo tempo di manche, ma comunque è riuscito a difendersi dall'attacco di Alexander Schmidt, che chiude terzo a un secondo e 0-9, quindi a solo 8 centesimi dal Trentino. Quarta posizione per Christoffersen, anche lui molto vicino al podio, 1-11, solamente 2 centesimi dalla terza posizione di Schmidt, mentre la quinta piazza appunto è occupata da Feller a 1-48 con 10 posizioni recuperate. Molto bene anche lo sviziano, Murisier, chiude sesto a 1-52 con 4 posizioni recuperate. Come già detto, Bresteiner cala dalla quarta alla settima posizione, stesso tempo con Windistad, che invece riesce in un ottimo recupero, recuperando ben 7 posizioni, riportandosi dalla quattordicesima alla settima piazza, il norvegese. Nonna posizione per Fevre, che ieri fece il miglior tempo nella prima manche, salvo poi perdere tantissimo nella seconda. Da quest'oggi fa un po' il contrario, perché ha fatto una prima manche pessima, tredicesima piazza per lui, poi nella seconda recupera 4 posizioni e riesce comunque a chiudere in top 10. Decima posizione per Radamus, che non fa una grandissima seconda manche, perde due posizioni, scalando appunto dall'ottava alla decima piazza. Dunque, primo podio in carriera per Deliprandini in Coppa del Mondo, veramente un grandissimo risultato per lui, che sta trovando una continuità di risultati veramente impressionante. In questa stagione è sempre tra i primi 5, diciamo, in gigante, per cui veramente un'ottima stagione per lui. Mentre Marco Dermatt, per quanto riguarda la classifica generale di Coppa del Mondo, prende il largo, perché Pinturo ha fatto una prova pessima, ha chiuso intorno alla 17esima e 17esima posizione, quindi non so bene di preciso come si è arrivato il francese campione in carica della Coppa del Mondo e aveva già tantissimi punti di distacco. Adesso i rivali più pericolosi potrebbero essere Mayer, che appunto ha dalla sua le gare veloci, però disputa solo quelle, e Kilde, che anche lui sta saltando i giganti, che era solito fare prima dell'infortunio al crociato. Vedremo, vedremo perché Kilde è veramente impressionante in questo inizio di stagione, per cui può essere un rivale, ma Odermatt è competitivo praticamente in tutte le discipline, per cui è veramente difficile fare concorrenza al giovane svizzero, che si appresta a diventare un grandissimo sciatore, perché insomma è ancora molto giovane, le qualità non mancano, è competitivo praticamente in tutte le discipline, per cui è veramente un sciatore formidabile, ed è sicuramente il grandissimo favorito per la conquista della sfera di cristallo. Comunque ragazzi, direi che per questo è per di tutto, vi piace al commento, mi piace, iscrivervi, e seguirci sulla nostra pagina Instagram. Noi ci vediamo a un prossimo video. Noi ci vediamo a un prossimo video.